Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri ad attico, libro 14, paragrafo 08, vai alla traduzione in italiana vai all'approfondimento su Cicerone tu meiam rebare, cum scribebas, in actis esse nostris, et ego, a cepi 17 cali in de versoriolo sinu essano tuas litteras, de Mario probe, et si doleo elle crassi nepotem, optimeiam etiam brutto nostro probari Antonium, nam quodiumiam scribis moderate et amice scriptas litteras attulisse, mai Paulus dedit ad se affrat remisas, quibas in estremis, erat sib insidias fieri, se i certis auctoribus comperisse, hoc nec mai placebat et mal tu illi minus, reginae foga mai non molesta est, Clodia qui de gerit scriba ad mevelim, debizanti i curabis ut etc. et pelopem atte arceses, ego, ut postulas, baiana negotia sciorum quellum de cuosci revis, cum perspexero, tum scribam, ne quid ignors, quid galli, quid is pani, quid sextus ogat vehementi respecto, e a scilice tu declarabis qui etc., nauseolam tibi tuam causamotide disse facile patiebar vedebare inimai i leggenti tuas litteras requiesse Paulis per de brutto semper ad me omnia perscribito, ubis it, quid cogitet, che im quid emego spero iam tuto vel solum tota urbe vagari posse, verum tamen. Vai al testo del libro 14, 04 dell'Epistulae ad Atticum di Cicerone vai al testo del libro 01, 02 dell'Epistulae ad Atticum di Cicerone. 01, 02, 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 02